Qual è il miglior gioco di sempre secondo tempo? Ehm, è te! Kingdom Hearts Baldur's Gate 3 Metal Gear al Sole in 3 Metal Gear al Sole in 5 Metal Gear al Sole Quale? Il primo! Ma si dice Metal Gear al Sole? È il primo! The Quiet Man Il gioco migliore di sempre è Zelda Dark Knight Red Dead Redemption Mirror Anche il mio gioco preferito era Dead Redemption Megaman 2 Per me è Super Metroid Final Fantasy 8 Dark Souls Diablo 2 Sonic Colors per la Wii Per il primo! Il primo gioco che ho mai finito in vita mia Half-Life 4 Per me anche a 1 Last of Us parte 2 Ghost in Spider 2 Black Flag Assassin's Creed The Black Flag Assassin's Creed Origin Final Fantasy 6 Per me è Last of Us Metal Gear Solid 1 Minecraft Metal Gear Solid 3 Last of Us parte 2 Metal Gear Solid Iron Man Trusted Ehm... Eloquente! Eroquente! 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 Eroquente!